Nel centro storico di Novara, in via Prina, angolo Corso Italia, Arte Casa vi propone in vendita questo bellissimo trilocale mansardato. L'immobile è ubicato al quarto e ultimo piano con ascensore ed è stato recentemente ristrutturato e completamente arredato su misura. Molto luminoso grazie ai numerosi lucernari presenti, è caratterizzato da soffitti in legno con travi a vista e dal terrazzino a Pozzetto con accesso dalla zona giorno da cui è possibile ammirare la cupola di San Gaudenze. L'appartamento ha il riscaldamento centralizzato con sistema di contabilizzazione, è climatizzato e dotato di una cantina. La vista sui tetti di Novara è davvero suggestiva e l'ambiente risulta accogliente e arredato con gusto, ogni angolo è stato sfruttato alla perfezione. Non perdere questa occasione, per visionarlo contatta subito lo staff di Arte Casa Immobiliare. Arte Casa, l'arte di vendere case.